Buonasera, bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi Versilia. In apertura parliamo di gestione dei rifiuti a Via Reggio e un aumento sull'Atari del 3% previsto per quest'anno. A parlare nei nostri microfoni è stato il sindaco Giorgio Del Ghingaro con l'atto approvato in Consiglio Comunale ieri si è dato via al piano finanziario per il servizio potenziato, ha spiegato il primo cittadino, si ha allargato anche la darsena il porta a porta e ci sono altri costi che sono stati ridotti. Sentiamo i particolari. Il piano finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel comune di Via Reggio prevede per il 2018 un ritocco di circa 3 punti percentuali con l'allargamento della raccolta differenziata anche al quartiere d'arsena. Rispetto all'anno 2015, quando la spesa complessiva per la gestione dei rifiuti fu di 21 milioni e mezzo, il piano finanziario nel 2018 presenta costi ridotti nonostante il potenziamento del servizio porta a porta che si è avvicinata ad una percentuale del 70%. La tassa dei rifiuti era nel 2014, nel 2015 anzi mi scuso, era 21 milioni e mezzo complessivamente. Oggi la tassa dei rifiuti è 19 milioni e 7-8, una cosa di questo genere. Quindi con una diminuzione complessiva rispetto al 2015. Nel frattempo cosa abbiamo fatto? Abbiamo incrementato il porta a porta, il porta a porta è sviluppato in tutta la città, è rimasta la darsena che partirà a brevissimo. Abbiamo chiuso il vecchio debito col CAV che era un debito enorme di circa 7 milioni, è stato chiuso definitivamente con un'operazione fatta assieme all'organismo straordinario di liquidazione e abbiamo ormai fatto passi in avanti molto forti verso rifiuti zero, avendo un calo del rifiuto complessivo di circa il 15%. A me sembra un risultato straordinario, tenendo conto che l'ente era in dissesto. Quindi non abbiamo gravato sulle tasche dei cittadini, anzi le abbiamo sgravate, nel frattempo abbiamo investito facendo il porta a porta, liberandoci dai vecchi fardelli come quello del CAV e dando un futuro rispetto ai temi della raccolta differenziata verso rifiuti zero. Mi sembrano risultati importanti. Una seduta a fiume è quella del Consiglio Comunale che si è chiuso lunedì, praticamente in serata e che ha approvato anche il capitolato della passeggiata che introduce novità sulla riscossione delle concessioni, delle rendite pubbliche del Comune ma parte dell'opposizione è stata contraria ed è tuttora scettica, si poteva fare di più e meglio. Sentiamo il servizio. La montagna ha partorito il topolino, commentano oggi le forze politiche di opposizione dopo che lunedì, a tarda sera, il Consiglio Comunale di Viareggio ha approvato il nuovo capitolato della passeggiata. Per le minoranze consigliari la nuova normativa aumenterebbe i vantaggi dei concessionari contro i gestori delle attività commerciali, mentre per l'assessore al patrimonio Laura Servetti che nell'Assemblea pubblica ha illustrato il nuovo capitolato, ora sanzioni e decadenze potranno essere fatte a differenza di ciò che avveniva prima. L'interesse pubblico è che chi ha la concessione debba, secondo me, utilizzarla direttamente e non subaffittarla. Sono contrario alle rendite di posizione perché le rendite di posizione impediscono uno sviluppo migliore del turismo e del commercio nella nostra città. Mi spiego meglio, se il concessionario paga 10 e subaffitta a 50, il gestore non potrà mai essere in grado di poter competere sul mercato e su un miglioramento della propria attività perché rimarrà strangolato dall'enorme cifra che deve pagare. Quindi io credo che la cosa migliore da fare era quella di aspettare la scadenza naturale del capitolato delle concessioni al 2023 e dopo inserire nel capitolato della passeggiata e delle arenie di Ponente e di Levante l'utilizzo diretto della concessione. Gli introiti che incasserà il Comune di Vareggio per le concessioni della passeggiata, per i canoni di concessione sul Viale Europa, Mercato Ittico e nelle Due Pinete nel 2018 ammontano complessivamente a 3 milioni e 360 mila euro. Resta ancora da chiarire la situazione dello Stadio dei Pini di Vareggio dove si sono giocate le partite a porto e chiuso nel weekend della Vareggio Cup. Nel pomeriggio c'è stata una conferenza stampa del Centro Giovani Calciatori che organizza da 70 anni la Coppa Carnevale e si attende nella mattinata di domani, nelle prossime ore e dunque per l'esattezza mercoledì mattina il sopralluogo, l'ultimo della Commissione Comunale di Vigilanza per capire se c'è il via libera all'utilizzo di nuovo dello Stadio dei Pini dove nel pomeriggio di mercoledì alle 15 si dovrebbe, ma usiamo il condizionale, giocare la partita degli ottavi di finale tra Juventus e la rappresentativa Serie D. Nell'occasione l'ingegnere Biagiotti che vediamo anche nelle immagini ha fatto reso conto dell'attività, dei lavori di monitoraggio dello stadio eseguiti proprio in questi giorni, lunedì e martedì in particolare, all'indomani della chiusura, lo vediamo anche in queste immagini attività di monitoraggio per capire poi quale altre azioni intraprendere. A breve dunque si attende una decisione e si dovrà capire se le partite potranno essere ospitate a porta aperta allo stadio. Il centro si dice pronto a un piano B, una soluzione potrebbe essere l'ospitalità offerta dalla città di La Spezia dove si potrebbero giocare in alternativa allo stadio di Pini le partite assegnate allo stadio Via Reggino per gli ottavi di finale e probabilmente, ma appunto dobbiamo rimanere prudenti e mantenere il condizionale, potrebbero finire là anche le semifinali e la finale, però vi daremo certezze nelle prossime ore. La pagina politica ci riporta a Pietrasanta dove è un vero e proprio braccio di ferro tra Forza Italia e Lega Nord all'interno della coalizione di centrodestra per le candidature. Entrambi hanno schierato due nomi diversi e resta da capire se ci sarà la possibilità di un accordo in extremis su uno dei due nomi o su un terzo nome. Abbiamo sentito il commissario versiliese della Lega, ma facciamo il punto in questo servizio. Al momento restano due i candidati sindaco del centrodestra Pietrasanta, Alberto Giovannetti per Forza Italia e Elisa Bartoli per la Lega. La strada per un'intesa tra i due partiti c'è, ma al momento sembra stretta e in salita. Il fuoco amico scatenatosi in 24 ore tra azzurri e leghisti che hanno ufficializzato due candidati diversi rischia di sgretolare la maggioranza che ha amministrato con l'ultima giunta a Mallegni. Il carroccio punta sul giovane avvocato, figlia dell'ex assessore Carlo Bartoli, famiglia molto conosciuta. La scelta è stata fortemente voluta dal territorio. A Pietrasanta c'è un gruppo di persone forti, preparate, coese che credono nel progetto politico della Lega e hanno individuato in Elisa Bartoli quelle caratteristiche di serietà, sicurezza, esperienza professionale e conoscenza della città che sono necessarie affinché Elisa Bartoli possa essere un buon candidato sindaco per Pietrasanta. Entro giovedì si attende un confronto tra i vertici locali di Forza Italia e della Lega per risolvere il rebus, altrimenti andranno separati. Quella delle candidature sembra a tutti gli effetti una prova di forza tra i due partiti, entrambi al loro modo usciti i vincitori dalle urne del 4 marzo nel braccio di ferro interno al centro-destra. Forza Italia primo partito, assoluto al Senato, la Lega avanti agli azzurri alla Camera, dietro però ai 5 Stelle. Ma c'è ancora spazio per un accordo sul candidato sindaco unitario? Non ci deve essere solo la possibilità, ci deve essere la ragione di tutti per trovare l'intesa su un solo candidato perché il centro-destra unito è vincente e dunque bisogna fare tutti insieme uno sforzo affinché ciò possa avvenire. Uno sforzo cosa vuol dire? Vuol dire che la Lega è disposta a mettere a disposizione le proprie energie, le proprie risorse ed Elisa Bartoli perché sia il candidato del centro-destra. E a proposito la Lega organizza per questo fine settimana, domenica 25 marzo alle 11.30 in Sant'Agostino un convegno sulle imprese artigiane, uno sguardo su Pietrasanto organizzato proprio dal Carroccio. Lo scopo dell'iniziativa è fare il punto della situazione nelle nostre imprese artigiane sul profilo storico e ovviamente sull'attualità problematiche e prospettive. Ci sarà lo stesso Alfredo Trinchese che avete visto e anche i vertici regionali del partito l'onorevole Vescovi, l'onorevole Picchi e la capogruppo in consiglio regionale Montemanni ma anche la stessa Elisa Bartoli candidata dunque per la Lega alla carica di sindaco di Pietrasanta. Restando nella piccola tene novità per la sosta, si sostituiscono i parcometri sul territorio comunale i nuovi accetteranno le banconote e si potranno acquistare gli abbonamenti. Occorrerà inserire però tra i numeri della targa, si tratta di una prima trancia di sostituzioni che sarà completata a breve con diverse novità appunto per il servizio di pagamento della sosta. Torniamo a parlare di sicurezza sui luoghi di lavoro. C'è un appello da parte della FIOMM CGL Toscana sulla sicurezza nei cantieri navali di Viareggio in particolare lo ha fatto il leader toscano Massimo Braccini, ospite oggi nei nostri studi a pomeriggio con noi. Sentiamo. Troppi incidenti, molti dei quali mortali, si verificano nei cantieri navali della costa toscana. Questi, denuncia la FIOMM CGL regionale, sono dovuti al mancato rispetto della sicurezza in cantiere e alle inadempienze contrattuali da parte delle aziende che operano nel settore della nautica da di porto. Per Massimo Braccini, segretario regionale FIOMM CGL, ospite della nostra trasmissione pomeriggio con noi, le mancate risposte sul tema della sicurezza sia da parte degli enti pubblici sia da parte delle imprese rappresentano segnali allarmanti di uno status quo che non può più essere mantenuto. Ovviamente apriremo la vertenza nautica su tutta la costa, perché questo processo produttivo distorto è intollerabile, soprattutto in un settore del lusso, dove ci sono comunque profitti a due cifre e dove per condizioni ci sono altri elementi importanti. Qui si lavora su beni pubblici, su beni demaniali. Alla fine i cantieri sono all'interno di un processo a cui deve essere rilasciata la concessione. E qui c'è anche una responsabilità quindi istituzionale. Le concessioni si possono assolutamente legare al suo rilascio affinché ci sia una condizione dell'interesse collettivo, dello sviluppo e non questa condizione di distorsione che alla fine fa arretrare e mettere anche in competizione tra di loro le persone che vi lavorano. Questo è un modello che non va da nessuna parte. Noi abbiamo invitato più volte le varie istituzioni su questo argomento, in modo che si prendano la posizione. Quando dici istituzioni, le amministrazioni comunali? Parlo di amministrazione, parlo di province, parlo di regione, visto che per esempio Via Reggio è un porto regionale e quindi c'è un'autorità portuale regionale dove ha una competenza per rilascio delle concessioni e dove alla fine anche nell'area polonautica non condividiamo la scelta del frazionamento perché questo non va nell'interesse collettivo. Ci saranno anche commercianti dalla Versilia domenica. La premiazione dei migliori commercianti del nostro territorio è la premiazione dell'iniziativa Maestri del Commercio. Sentiamo il nostro servizio. È in programma domenica 25 marzo a Palazzo Ducale l'edizione 2018 del prestigioso premio Maestri del Commercio, organizzato dall'associazione 50 e più Confcommercio. Il premio è uno storico riconoscimento ai commercianti che hanno raggiunto almeno 25, 40 e 50 anni di attività e quest'anno le aquile della Confcommercio andranno a 36 commercianti della provincia di Lucca. L'iniziativa è stata presentata a Palazzo Sani dai vertici della Confcommercio Lucca in Massacarrara. Questo è un premio molto importante. Ambito perché, come si può vedere qui, l'aquila d'oro che io ho raggiunto alcuni anni fa, purtroppo, perché aquila d'oro vuol dire 40 anni di attività nel commercio, aquila d'argento vuol dire 25 anni di attività nel commercio e aquila di diamante vuol dire 50 e più anni di attività nel commercio. È un premio importantissimo, dicevo, perché testimonia quello che uno ha realmente fatto. La verifica di quello che è l'aquila che uno prende viene addirittura dall'estratto contributivo dell'Inps, quindi non si può dire che uno ha lavorato nel commercio 40 anni e poi non l'ha fatto, quindi è una cosa veramente tangibile. Io sono contento perché abbiamo coperto tutta la provincia con premiati nella Valle del Serchio, nella Versiglia, Lucca città e la Piana di Lucca. La cerimonia di premiazione di domenica sarà condotta dal noto giornalista e volto televisivo di media Sette Paolo del Debbio, lucchese doc. Al termine della consegna dei riconoscimenti, la compagnia balestrieri di Lucca darà vita a un'esibizione in piazza Napoleone con il proprio gruppo di sbandieratori, il gruppo storico in costume, gli arcieri e i musici. La mattinata particolare per gli studenti dell'Istituto Alberghiero di Vieriggio, alla Croce Verde per ascoltare e vedere la presentazione dell'ultimo impegno editoriale dell'insegnante e scrittore Fabrizio Altieri. Vediamo. Il professor Fabrizio Altieri, insegnante all'Istituto Alberghiero di Vieriggio, è uno degli scrittori contemporanei molto apprezzato e amato dai lettori di tutte le età e in particolare dai suoi studenti. Stamani, in una folatissima sala convegni della Croce Verde di Vieriggio, ha presentato la sua ultima fatica editoriale. Pubblico da qualche anno libri per ragazzi con il Battella Vapore e con i Naudi Ragazzi. La scuola, chiaramente la mia esperienza di insegnante nella scuola mi aiuta molto avere idee sui miei libri, per i miei libri diciamo, e quindi sono molto contento di questo, dei due lavori, sia di lavorare a Lisi Marconi di Vieriggio, sia di scrivere per PM e per i Naudi. Racconto una storia ambientata fra Seravezza, Vieriggio e Pisa, di due ragazzini, fratello e sorella, che scappano durante la Seconda Guerra Mondiale, rincorsi inseguiti da un SS che li vuole uccidere. Alla presentazione hanno partecipato gli insegnanti dell'Istituto e il preside del Marconi, Lorenzo Isoppo, soddisfatto per la divertente mattinata. A noi fa molto piacere essere protagonisti su tanti campi diversi e approfittiamo di tutte le occasioni che ci vengono date. Abbiamo nel nostro corpo insegnante questo scrittore che veramente sta dando buona prova di sé e tutte le volte che c'è un incontro o che scrive un libro, che c'è un incontro con i ragazzi è sempre un successo, quindi è una bella iniziativa che a noi ci piace anche ripetere nel tempo. A proposito di scuole, il prestigioso premio AGESC 2018 Pace e Diritti Umani verrà consegnato nel corso di una cerimonia pubblica giovedì 22 marzo, inizio 16.30, nell'aula magna delle scuole primarie e paritarie Santa Maddalena di Canossa a Forte Remarmi. Parteciperanno gli alunni di tutte le classi assieme ai loro docenti. Durante la cerimonia saranno premiate le classi, gli alunni che hanno redatto elaborati grafici e scritti sul tema della pace e dei diritti umani. Altri studenti, molto piccoli, si tratta soprattutto di studenti delle elementari, ma non soltanto a lezione di cultura di mare, grazie alla Capitaneria di Porto di Viareggio. In centinaia hanno preso parte a queste iniziative promosse nelle ultime settimane dalla Guardia Costiera di Viareggio con il corpo docente dell'Istituto Paritario delle Scuole Mantellate Viareggine, con grande interesse da parte degli studenti, dei più piccoli a quelli più grandi. Hanno visitato prima il Museo della Marineria e poi la Capitaneria e al Museo hanno seguito con attenzione e curiosità le spiegazioni del personale con l'ausilio anche di materiale didattico. Insomma, è stata raccontata un po' tutta la storia della marineria di Viareggio, ma anche si è parlato di sicurezza in mare e altri temi didattici per i giovanissimi. E adesso c'è invece il ringraziamento per una bella iniziativa andata in scena al Centro di Medicina dello Sport Viareggio Versilia, all'ex ospedale Tabarracci, che ringrazia l'associazione Onus Kids Kicking Cancer per il corso di formazione per operatori Martial Health Therapist, terapia arti marziali, che si è tenuto il 17 marzo scorso nei locali della medicina dello sport. L'ennesima iniziativa che dà ancora un risvolto sempre più sociale a questo luogo. Il prossimo obiettivo sarà quello di avviare l'attività appunto del cosiddetto Martial Arts Therapist presso l'oncoematologia di Cisanello a Pisa e gli istruttori sono rimasti molto soddisfatti da questa occasione. Qua vediamo anche una foto di quel momento. Noi ci fermiamo adesso con la cronaca, tra poco riprendiamo con un'ampia pagina sportiva. Ben ritrovati con la pagina sportiva, non possiamo che partire dai motori questa sera perché ormai è partito il conto alla rovescia per l'edizione 2018 del rally del Ciocco e della Valle del Serchio. Si parte questo fine settimana come sapete, venerdì da Forte Remarmi e poi la grande e lunga giornata di sabato, un'edizione davvero strepitosa a giudicare dalla lunga e intensa lista degli iscritti. Sentiamo Guido Casotti. Sarà un ciocco da favola, tanti campioni di casa nostra ma anche una pattuglia di fuoriclasse stranieri, tutti giovanissimi e veloci, pronti a fare lo sgambetto agli attesi big. E in più alcune new entry decise a dare battaglia nell'arco di un CIR 2018 dal new look di successo che promette scintille. E gara nella gara il rally regionale con un sestetto di agguerrite R5 a battagliare. Insomma un super ciocco che darà il via il 23-24 marzo ad un tricolore rally più vivace che mai e che grazie anche alle nuove regole su format di percorso e punteggi ha trovato nuova linfa e nuovi sfidanti. Ci proveranno in tanti anche se non sarà impresa semplice. La vittoria al rally del Ciocco è una di quelle da mettere in bella evidenza nella bacheca di un pilota. Qui non sarà facile stare davanti a Paolo Andreucci, a Andreucci e la Peugeot 208 T16 del Racing Lions, perché Ucci nel 2017 si è cucito sulla tuta, unico nella storia del rally italiano, la stella con 10 titoli tricolori. E sulle strade della sua Garfagnana si muove come nel salotto di casa. Però il cesenate Simone Campedelli, che lo scorso anno gli ha dato filo da torcere, ha vinto proprio su queste speciali, ha affinata ancora più il suo pacchetto CIR. For fiesta evoluta, navigatrice di rango come Tania Canton, Team Orange ha guerrito. E lancia di nuovo la sfida insieme all'iriducibile veronese Umberto Scandola, uomo di punta della scuola Italia, con la fabbia aggiornatissima e il fido Gillo D'Amore alle note. Deciso a vissare il titolo, conquistato nel 2013, e a portare a casa il suo primo ciocco. Un trist di pretendenti che diventa quest'anno un poker, l'asso che si aggiunge Andrea Crugnola, veloce e giovane pilota varesino, che è riuscito a comporre un puzzle molto competitivo. Lui con la Ford Fiesta HK Racing nei colori Ford Racing, al suo fianco l'esperienza di Danilo Fappani, costituiscono un insieme potente. Naturalmente non possiamo dimenticare i nostri, Luca Panzani e Rudy Michelini. Al debutto nel CIR Luca Panzani inizia la sua avventura tricolore con la Ford Fiesta e Francesco Pinelli al quaderno delle note. Rudy Michelini si affida invece alla forte e velocissima Skoda e avrà al suo fianco in alternanza Michele Perne e Davide Castiglioni. Che lo spettacolo abbia inizio. E vi teremo aggiornate ovviamente anche sulla preparazione nei prossimi giorni per la partenza del rally. Veniamo adesso all'hockey con la decisione arrivata del giudice sportivo per Samuele Muglia in casa Cgc. Tre giornate di squalifica. L'attaccante del centro giovani calciatori Samuele Muglia è stato squalificato per tre giornate. Due più una per la recidiva e sanzionato con 300 euro di multa. Nel bollettino ufficiale della Lega Nazionale Occhi si legge, espulso definitivamente per comportamento antisportivo in quanto al minuto 50 della partita di Sarzana disinteressandosi della palla colpiva volontariamente con il bastone il giocatore della squadra avversaria ad un braccio il quale fortunatamente non riportava conseguenze fisiche. Prima di questa reazione però del giocatore bianconero c'è stato un fallo di Borsi su Muglia che come si vede dalle immagini tv non sarebbe stato sanzionato da parte dei direttori di gara. Sostengono i dirigenti del centro giovani calciatori che hanno punito quindi la reazione del giocatore bianconero che è stato come detto squalificato tre giornate. In questo caso non è disponibile quindi per l'ultima gara della regular season con il tiene e le due gare dei playoff a meno che non venga combinata una giornata in seguito al reclamo che presenterà la società bianconera. Fatto sta che il centro giovani calciatori anche in questo finale di stagione non sarà al completo con l'organico come ha effettuato in diverse partite in questa stagione a causa di infortuni e disqualifiche. Quindi ovviamente la squadra di Alessandro Bertrucci parte con l'handicap in questo rush della stagione. E dal Portogallo, meglio da una rivista, da un giornale portoghese, arriva la notizia di una possibile, anzi quasi imminente conferma di Reinaldo Ventura in bianconero. Così si legge in un'intervista rilasciata a un quotidiano portoghese. Oggi all'ultimo gioco della fase regolare ho la felicità di annunciare che ho accettato di rinnovare la mia continuità a Viareggio per altri due anni. Così ha dichiarato il campione portoghese Reinaldo Ventura. Lo scopo è cercare di elevare il nome di questo club al posto che merita di avere. Felice di essere in questo progetto e di poter aiutare a crescere in modo duraturo. Così ha dichiarato Reinaldo Ventura alla stampa estera. L'Atletica adesso si apre una nuova stagione per l'Atletica Pietrasanta-Versilio. Un 2018 denso di appuntamenti come sempre ogni anno per il sodalizio di Pietrasanta che sabato ha anche celebrato la festa di chiusura dell'ultima stagione. Vediamo. Sarà ancora un anno intenso di gare e di emozioni per i ragazzi e le ragazze dell'Atletica Pietrasanta-Versilio. La società sabato scorso nella sala dell'Annunziata in Sant'Agostino ha celebrato la conclusione della stagione 2017 e lanciato quella imminente del 2018. Nell'occasione sono stati premiati i primi sei atleti delle categorie A e B dell'anno passato e i primi cinque delle altre categorie. Un momento di soddisfazione per tutta la società che ha presentato le gare di quest'anno, riunite nel circuito della Versilia, quarto Memorial Giuliano Giannotti, organizzato in collaborazione con numerose altre associazioni del territorio. Un 2017 impegnativo, anche quest'anno si conclude l'edizione del Memorial Giuliano Giannotti intitolato appunto a Giuliano, un ex nostro desserato che è molto attivo nell'associazione, un appassionato di corsi su strada che veramente ha dato tanto all'Atletica e alla nostra società in particolare. Quindi siamo onorati di portare avanti questa iniziativa che porta al suo nome sperando insomma di tenere vivo il ricordo. Si parte con la 46esima edizione del trofeo Pila dei Cinquini in programma per il giorno di Pasquetta il 2 aprile organizzato con la Prostrettoia, un percorso collinare completamente asfaltato, una gara regionale fida da 9,5 km. Si proseguirà poi a giugno con il sesto trofeo San Pietro, corsa di montagna da 8 km con partenza da Ritignano, Stazzema. Ad agosto l'ottavo trofeo San Rocco per le strade di Pozzi. A seguire la tredicesima camminata a Seravezza e a chiudere l'anno agonistico la tradizionale Coppa Santo Stefano, la 66esima edizione il 26 dicembre che si correrà come sempre tra Vallecchia e Pietrasanta. Nasce il primo trofeo artiglio per vele d'epoca e storiche, vele coinvolte località come Marina di Carrara, Le Grazie di Porto Venere e Viareggio. Queste tre località da maggio a ottobre 2018 vedranno svolgersi questa prima edizione del trofeo, un circuito di regate dedicato alle imbarcazioni a vela d'epoca e storiche. Evento organizzato e promosso in sinergia dal Club Nautico Versilia, dall'Aive con la Marina Militare e dall'Associazione Vele Storiche Viareggio. La tappa inaugurale si svolgerà il 5 e 6 maggio in occasione del tredicesimo trofeo Miraglio Giuseppe Francese di Viareggio e sarà proprio a Viareggio. La partenza da Marina di Carrara, passaggio all'Isola del Tino e arrivo appunto a Viareggio con l'organizzazione del Club Nautico Versilia e delle Vele Storiche Viareggio. La scuola calcio della Croce Verde Viareggio in collaborazione con il Tau Calcio Inter promuove il centro di formazione con un corso di avviamento gratuito nei mesi di aprile e di maggio. Ogni sabato a partire dal 7 di aprile dalle 11 alle 12 al centro sportivo Angelo Basalari in via Oleria Nord a Viareggio. Per i piccoli nati nel 2010, 11, 12, 13 e 14 così informano dal centro di formazione sportiva. È tutto per lo sport, ci fermiamo tra poco di nuovo insieme alla terza parte con gli eventuali aggiornamenti. Ben ritrovati, terza parte del nostro telegiornale con due notizie legate alla cultura e gli spettacoli, una appena arrivata in redazione con Ivano Fossati che aprirà il prossimo Festival Gaber a Camaiore. Domenica 1 luglio Ivano Fossati inaugurerà il Festival al Teatro dell'Olivo di Camaiore con le donne di ora, serata che aprirà questa quindicesima edizione del Festival Toscano appunto dal Teatro dell'Olivo di Camaiore a 15 anni dalla scomparsa del Signor G. E poi un'altra data importante, un altro big in arrivo in Versilia nell'estate degli eventi, era già stato annunciato nei giorni scorsi a Villa Bertelli a Forte Remarmi, ci sarà il concerto di Francesco De Gregori ed è stata aperta in queste ore la prevendita su Ticket One e nei punti vendita tradizionali per quello che al momento è uno dei principali appuntamenti canori dell'estate in Versilia. Sarà l'11 di agosto, la biglietteria di Villa Bertelli sarà operativa dal mese di maggio. Prima di chiudere c'è spazio per ricordarvi un appuntamento molto particolare, mercoledì 21 al Teatro Comunale di Pietrasanta, in programma alle 21 proprio, Buon compleanno Francesco, in ricordo di Francesco Ticci, il giovane 14enne deceduto in seguito ad un incidente stradale sulla via di scorrimento a Forte Remarmi nel 2010. La serata è organizzata a sostegno dell'associazione Dislessia Francesco Ticci con la partecipazione del Piccolo Teatro Sperimentale Danzante Versilia, il gruppo L'Iamata Africa con Caterina Ferri, Dino Mancino, Angelo Polacci, Lora Santini e Antonio Meccheri, ci saranno a presentare e non soltanto, proprio il duo Antonio Meccheri e Lora Santini, appuntamento questo mercoledì alle 21 al Teatro Comunale di Pietrasanta. È davvero tutto per questa edizione, non ci sono altre notizie, grazie per essere stati con noi e buona serata. Grazie a tutti.